Il Commissario Ricciardi 2. Tutto sulla nuova stagione. Nella prima metà del nuovo anno, dovrebbe finalmente andare in onda la seconda stagione del Commissario Ricciardi. La fiction, amatissima e molto attesa, vedrà come protagonista sempre Lino Guanciale, e ci saranno diverse novità e colpi di scena. Luigi Alfredo Ricciardi continuerà a muoversi a Napoli tra crimini, vicende sentimentali complesse, ma anche intricate storie da risolvere. Ecco che cosa succederà nella seconda stagione. Dopo tanta attesa, sono arrivate finalmente informazioni più certe sulla seconda stagione del Commissario Ricciardi. La fiction con protagonista Lino Guanciale dovrebbe infatti tornare, a meno che non ci dovessero essere slittamenti, nel corso dei primi mesi del 2023, probabilmente durante il periodo invernale. Per quanto riguarda la trama, ovviamente la RAI non ha fatto trapelare molto, ma restano dei punti fermi. In particolar modo, resta protagonista Luigi Alfredo Ricciardi, il quale, nella Napoli degli anni 30, dovrà occuparsi di diversi casi molto complessi. Come sempre, Ricciardi sarà più esperto nel campo degli omicidi. Nel corso della nuova stagione, il personaggio continuerà a subire gli effetti della maledizione ereditata da sua madre. Luigi Alfredo continuerà a sentire le voci delle persone che hanno perso la vita e potrà raccogliere il loro ultimo desiderio, risolvendo così velocemente più casi di omicidio. Nel corso della nuova stagione, Luigi Alfredo si allontana da Erika, la sua dirimpettaia, nel timore di poter trasmettere ad un eventuale figlio questo terribile dono. La ragazza viene corteggiata dal tedesco Manfred e si lascia affascinare da lui, mentre sembra sempre più lontana rispetto a Ricciardi. Altre donne però provano ad avvicinarsi al commissario, da Livia alla contessa Bianca Palmieri, ma Luigi Alfredo sembra essere poco interessato, al lato sentimentale della sua vita. Nello specifico, il commissario è soprattutto rimasto particolarmente colpito dalla scomparsa della Tata Rosa. Per questo motivo, i suoi colleghi e conoscenti gli stanno vicino, oltre ad aiutarlo anche sul posto di lavoro. Dal momento che ormai non manca molto alla messa in onda della stagione del commissario Ricciardi, iniziano a trapelare dettagli in più sui cambiamenti che ci saranno. Una delle novità che il pubblico potrebbe non gradire riguarda la durata della fiction. Quest'anno, infatti, durerà soltanto quattro puntate, due in meno dell'anno scorso. Sembra che, quindi, il commissario Ricciardi venga suddiviso per quattro differenti prime serate. La Rai, inoltre, ha indicato come data della messa in onda quella della prima metà del 2023. Quando la fiction era stata trasmessa nel 2021, era andata in onda dalla fine di gennaio a marzo. È possibile che il periodo si ripeta come accade normalmente con fiction come questa, considerando anche che si tratta di un prodotto di successo, adatto per il periodo invernale. Per la data ovviamente bisognerà attendere, mentre arrivano notizie certe sul cast. Quello della precedente stagione, molto apprezzato dai telespettatori, è stato riconfermato in toto. Cambia soltanto la regia, che passa da Alessandro Dalatri a Giampaolo Tescari. Naturalmente, però, ci si può aspettare qualche new entry. Il commissario dovrà interagire con le persone che hanno perso la vita in circostanze misteriose, ricostruirà i loro casi come fatto nella prima stagione, di conseguenza questi saranno nuovi membri del cast. Ovviamente è stata confermata la messa in onda su Rai 1, ma per il resto si mantiene il massimo riservo. La rete non ha fatto trapelare, nemmeno in maniera vaga, quali saranno i primi casi di cui dovrà occuparsi il commissario. Voi che cosa ne pensate? Avete seguito in precedenza la prima stagione del commissario Ricciardi, e credete che guarderete anche la seconda oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.